Allora, Mick è curioso e creativo e non smette mai di avere nuove e strane idee. È uno storyteller laureato in comunicazione visiva a Sydney e regista di esperienze specializzato in installazioni sensoriali, emotive, audiovisive e quindi si sviluppa poi il suo lavoro col suo studio creativo. Credo, trader e youtuber, un nuovo modo per chiacchierare sulle più basilari e vere questioni della vita di tutti i giorni. Quindi, ci ringrazio appunto chiaramente per essere qui, ti lascio il tuo talk per, lo spazio per il tuo talk sullo storytelling. C'erano una volta emozioni e tecnologia e ci rivediamo tra una ventina di minuti per il Q&A. Perfetto, bloccami e, come si dice, fatti un po' cecchino se vedi che vado troppo a lungo. In teoria ho qua i minuti, ma dovremmo farcela. Allora, grazie mille Michela, grazie per avermi invitato, grazie a voi che siete online. Diciamo prima, Michela, è come una piccola stanzetta dove siamo assieme, quindi creiamo anche dibattito dopo se avete delle domande, così mi porto a casa anche io qualcosa, tra l'altro, no? Assolutamente. Vado direttamente di presentazione, così vedo che vada tutto, proviamo a vedere, dovreste vederla, ecco, siamo già partiti dalla numero 2 invece della 1, però va bene. Allora, aspetta che riparto dall'inizio, che voglio fare le cose fatte bene. Allora, visto che c'è una domanda chiave, eccola qua. Ok, allora, nel 2020 e nel 2021 vuoi essere online? Questo un po' penso che ci siamo arrivati tutti, no? Nel senso che purtroppo non ci si può vedere molto, per cui, insomma, un modo di comunicare, un modo di essere presenti, cioè l'unica strada è online. Per cui io ho fatto un po' di ragionamenti, ultimamente faccio molti speech dove parlo proprio del cambiamento che stiamo vivendo, no? E quindi anche mi piace un po' condividere le cose che io ho imparato in questi ultimi anni pazzi, dove da nulla sono sbucato fuori su YouTube con un canale che di fatto è stato molto strano come caso studio, no? Perché da un punto di vista è stato potenzialmente il canale più in crescita di tutto YouTube Italia 2019 da zero. Ma chi se ne frega che fosse il più o il meno non è tanto quello, ma è che fino ad allora si diceva devi fare un video al giorno, devi fare un video ogni tre giorni se vuoi crescere. In verità io facevo e faccio ancora adesso un video ogni due settimane. A volte lo facevo ogni settimana, ma per lo più ogni due settimane. E quindi in un anno e mezzo ho toccato i 100k semplicemente facendo video ogni due settimane. Che non vuol dire che stavo lì a fare le cose ogni tanto, ci ho lavorato come un matto, però il motivo per cui ve lo mostro è perché vorrei andare all'interno un po' di come ho fatto. Cioè di spiegare come in verità, se fai le cose in un certo modo, ottieni un risultato. Il punto è che deve esserci un cambiamento di paradigma perché tutti pensiamo che le cose devono essere fatte in un modo, invece forse a me piace oggi darvi un input su magari potremmo portare l'attenzione su altre cose che hanno un valore molto forte ad oggi. Per cui parto da una frase che mi ha divertito tantissimo. So che sembra autocelebrativa, ma non lo è. È proprio perché se dobbiamo adentrarci porto anche esempi personali. E questo è uno dei commenti, dei tanti commenti che mi era arrivato negli episodi. Potresti parlare di tende e ancora aspetterei con ansia i tuoi video. Allora, molta della mia community la sente un po' così, lo sente un po' così il percorso che stiamo facendo. Nel senso che, ok, io parlo principalmente, forse è giusto un cappello, parlo di come siamo fatti, per lo più dal punto di vista neuroscientifico, biologico, le emozioni, come gestire se stessi le emozioni, crescita, self-help e così via. Però, poi, se mi mettessi a parlare d'altro, per il sistema che ho creato, che è un po' anche il mio modo di fare, diciamo, potrei probabilmente spaziare anche da altre parti. Questo mi fa pensare che non è necessariamente il contenuto al centro di tutto. Per carità, è importante. Però, ultimamente ho avuto delle discussioni perché qualcuno mi diceva, non so, parlavamo di economia e una persona fa, ma perché sai i contenuti di economia, chi è che gli interessa l'economia? E io ho pensato, ok, ma è la stessa cosa che mi diceva uno ricercatore di neuroscienze, il tempo fa, cioè, vabbè, ma neuroscienze, un po', chi vuoi che gli interessi di neuroscienze? Al punto non è tanto il soggetto, ma è come lo trasmetti, no? E se, in qualche modo, l'argomento appassiona te, come puoi far appassionare qualcun altro? Ed è lì che voglio un po' adentrarmi. Perché la tecnologia ce l'abbiamo, abbiamo tutti i mezzi per raggiungere chiunque, quindi si tratta un po' di come noi ci adattiamo a questi sistemi. Per cui, beh, c'è una cosa chiamata scienze della comunicazione, che io lo so che viene chiamata ovunque la Mac Laurea. Io sono laureato in scienze di comunicazione, in Italia viene vista come una cosa un po' così, in Australia, posso assicurare, io mi sono laureato a Sydney in Australia, vi posso assicurare che viene chiamata the Mac Degree, cioè la Mac Laurea, quindi ovunque nel mondo, è la stessa identica cosa. Però, ultimamente, si inizia a dire, aspetta un attimo, perché la comunicazione sembra un po' essere al centro di molte cose oggi, no? Per cui, forse dovremmo un attimo rivedere quanto effettivamente sia una cosa frivola o superficiale, perché c'è molto là dietro. E ricordiamoci che è comunque una scienza, per cui ha tutti i suoi, diciamo, le sue basi, per cui si va a creare una tecnica, una strategia, le cose funzionano così, funzionano con l'A. Per cui, nella comunicazione, noi basiamo tutto, no? Cioè, tra due persone che si parlano, fino a un brand con la propria audience, la propria community, qualunque tipo, il vostro primo appuntamento con qualcuno è comunicazione, no? Però il punto è, ma che cos'è la comunicazione e quanto noi riusciamo a consegnare veramente un messaggio a qualcun altro? Cioè, si tratta semplicemente di una cosa egoistica dove io lancio un'informazione a qualcuno e poi dove va, va? Oppure ho un interesse nel fare in modo che questa persona ricepisca non solo il messaggio corretto, ma anche con le stesse sensazioni che io vivo e che magari se le ricordi in qualche modo, no? Questo è il percorso che lo storytelling dove lo storytelling ci aiuta con un mare di strumenti da oltre 2500 anni. È bellissimo vedere che nell'ambito dello storytelling, anche della comunicazione in generale, le tecniche usate ancora da Aristotele 2500 anni fa ad oggi non vengono né cambiate e neanche così tanto perfezionate, vengono confermate dalla neuroscienza principalmente, ma un po', insomma, dalle varie tecniche e dalle esperienze che l'essere umano fa nel frattempo. Lo storytelling perché è un aspetto importante della comunicazione? Perché la comunicazione è, io dico a te qualcosa, è un passaggio di informazioni, però non include, come detto prima, il fatto che ci possa essere qualcosa di più. E quel qualcosa di più, quanto importante è? Lo storytelling, per come lo vedo io, è creare un'esperienza. Cioè, laddove la comunicazione è, ti dico questa cosa qua, e poi sono cavoli tuoi, lo storytelling è un po' un creare un mondo attorno a quello che io devo dire. E lo faccio perché non mi interessa probabilmente solamente l'informazione che do, ma mi interessa proprio che tu viva, quantomeno capisca il mio modo di vivere quel messaggio che ti sto dando. E magari l'obiettivo spesso è anche quello che tu lo viva come me, ok? In modo da poter poi, in qualche modo, interagire assieme su questa cosa, no? Per cui, e non per ultimo, l'obiettivo nostro, di chiunque di noi, questa è una cosa che io spingo da un po', e sto per fare uscire un corso riguardo, ma questo è spoiler, super spoiler, è il discorso di voler essere memorabili. Cioè, noi, alla fine, qualunque cosa facciamo, da lavorare i prodotti, a conoscere qualcuno, a appuntamenti, noi cerchiamo sempre di fare in modo che le persone si ricordino di noi. è il nostro modo per diventare, in un certo senso, immortali, no? Essere nella testa di qualcun altro, oltre che nella nostra realtà. E quindi, l'esperienza, in questo senso, è molto potente, perché l'esperienza vuol dire memoria. Cioè, noi, quando viviamo un'esperienza in prima persona, cioè quando c'è qualcosa che ci avvolge, un evento in cui siamo inclusi, quella cosa lì diventa parte della nostra vita, per cui diventa, in qualche modo, più o meno memorabile, però nella memoria ci passa. Mentre un'informazione può toccarmi come no, e può anche non creare attenzione in me, quindi potrei neanche ascoltarla, un'esperienza non posso non ascoltarla, è qualcosa che vivo. E quindi, di fatto, è anche bello, perché biologicamente cambia qualcosa in noi. Quando noi viviamo un'esperienza, di colpo, ok, creiamo delle connessioni neurali, o le rafforziamo, per cui a me piace sempre dire che anche dopo una conversazione molto coinvolgente, di fatto il nostro cervello, il nostro corpo, è già cambiato biologicamente, sta già cambiando biologicamente. Cioè, si sta attivando per rafforzare connessione, bruciarne altre, crearne di nuove, e così via. E infatti, questo è poi il concetto dell'apprendimento, no? Cioè, noi quando apprendiamo, in verità, apprendere significa creare nuove connessioni neurali. E è straordinaria come cosa, perché se ci pensate, significa proprio, in verità, strutturare il cervello, la plasticità del cervello, in maniera diversa. Cioè, nel momento in cui apprendo qualcosa, c'è qualcosa di biologico, qualcosa di fisico che si crea, si struttura, si rafforza nel mio cervello. Per cui, quando io porto qualcosa in memoria lungo termine, a qualche parte deve essere scritta, no? Quindi, si scrive biologicamente sul cervello, e quindi diventa, diventa qualcosa di molto, molto reale. e l'apprendimento è un qualcosa, nel prossimo, altro spoiler, nel prossimo episodio, ne parlerò tantissimo, e toccando un tema veramente molto potente, una cosa con il cuore da quattro anni, è il, mi piace toccare il fatto che viviamo in una cultura un po' nozionistica, dove, di fatto, si guarda di più l'informazione, che l'interiorizzare qualcosa, il sentirsi padroneggianti di una, di una, di una cosa che si è imparata. Quindi, forse bisognerebbe andare a vedere un po' come andiamo ad apprendere. Uno dei sistemi, appunto, lo storytelling, anche perché ci viene spiegato, e di nuovo ci viene in aiuto la neuroscienza, che la storia è come il nostro cervello crea significato. Cioè, noi, il nostro cervello non è razionale, il nostro cervello è emozionale, da centomila anni, e scordatevi di cambiarlo nei, nei duemila in cui, in cui sono successe alcune cose, ok? Il nostro cervello vive per riproduzione, sostentamento, cibo, ok? E sopravvivenza. Punto. Quindi, che tu gli dici dei dati, o dei numeri, che è un'invenzione dell'uomo, il cervello proprio non gli passa per la testa, farebbe ridere, però non li capisce, ok? Quindi, deve andare in cerca di qualcosa di razionale, che lo porti in memoria, qualcosa di emozionale, per dargli un senso. In verità, se noi andiamo a ragionare in maniera diversa, cioè se andiamo a pensare, scusate il doppio gioco di parole, su come funziona, lui funziona creando una struttura narrativa. Quindi, se quel dato, se quelle informazioni sono all'interno di una struttura narrativa cronologica, di un racconto, di qualcosa, il cervello per associazioni lavora, perché allora collega una cosa all'altra, ci lega delle esperienze di vita vissuta, e inizia a dare un significato. Quindi, passare già da una comunicazione blanda, data da tecnicismi, faccio un esempio a caso, a il voler coinvolgere con una storia, ecco che aiutiamo il cervello a elaborare le cose esattamente come lui è abituato ad elaborarle. Quindi, ragionare per storie è funzionale al facilitare l'apprendimento, e siccome il cervello lavora per economia cognitiva, significa che non ha voglia di sprecare risorse, se gli dai qualcosa nel modo in cui lui è abituato a lavorare, quindi di fare meno fatica per ottenere il risultato maggiore, lui la prende bene, e quindi è anche molto felice. Ricordiamoci che comunque, al di là di qualunque cosa, la maggior parte della nostra scelta è guidata dalle emozioni. Un mare di ricerche sono dietro questa frase qua, generalmente si dice che sia circa il 70%, il 70% delle nostre azioni sono guidate dalle emozioni, quindi quando voi pensate di aver comprato quell'oggetto, perché razionalmente siete convinti di aver fatto la scelta giusta, probabilmente è anche andata così, ma nel momento in cui lo acquistate, ci sono le emozioni che giocano un ruolo importantissimo, e molto spesso poi dei bias cognitivi vi aiutano a giustificare a livello razionale le cose, anche perché la corteggia profondale qua davanti è un po' più lenta della parte emozionale. Quindi, se è vero che siamo guidati dalle emozioni, forse dovremmo ragionare appunto non per informazioni, ma per creare dei mondi, creare esperienza e coinvolgere le persone. Io adoro questa frase dell'antropologo Ray Berwissel, che dice, ricordiamoci che l'uomo è un essere multisensoriale, occasionalmente verbalizza, perché la maggior parte di quello che fa non è verbalizzare, è comportarsi, ok? Quindi dovremmo seriamente esaminare l'implicazione del fatto, che l'uomo non comunica solamente a parole, e di fatto comunica dal 30 al 35% a parole. Tutto il resto è una sensazione di, cioè è comunicato dai sensi, è comunicato dal comportamento, linguaggio non verbale, parole verbale, ci possiamo mettere di tutto. Le parole sono una parte piccola, e tra l'altro è una parte che è quella meno, è che il cervello deve decodificare di più, no? Cioè il nostro linguaggio è un codice, è un codice per poter comunicare le nostre emozioni, le nostre sensazioni. Se potessimo avere telepatia, non useremo la parola, io ti farai sentire quello che provo. Quindi è come passare da un livello basso a tentare di usare un linguaggio che arriva a te, che poi ripassa a livello basso. Se ci sono alcune cose che possiamo invece comunicare direttamente a livello emotivo o sensoriale, capite che è molto più veloce il tipo di connessione, c'è molta più empatia, c'è molta più telepatia, in un certo senso, lasciatemi la passare, ma quella sensazione del io ti capisco, ok? Per cui dovremmo veramente considerarla questa cosa. Allora, a questo punto, nel momento in cui ragioniamo sul fatto che di un'esperienza, di una comunicazione, di due persone che si parlano, il più è dato dalle emozioni, dai sensi e dalle sensazioni che hai in quel momento, quanto a quel punto il contenuto è re? Io usavo questa frase, il contenuto è re, fino a tre anni fa con il mio studio, noi realizziamo esperienze immersive e sensoriali, con la tecnologia, eccetera, e abbiamo sempre detto la tecnologia è uno strumento, poi il contenuto è re. Ad oggi, io, vabbè, ho fatto un percorso come tanti di noi e rivedo questo concetto. Il contenuto non è il re, il contenuto è importante, il contenuto è poi il motivo per cui fai tutto, probabilmente, quindi devi crederci, deve essere vero, però si tratta di tutto quello che tu crei come esperienza per la persona, che è ciò che la persona poi utilizza per decidere se portarsi a casa questa esperienza o no nella memoria a lungo termine, in modo che tu sia rimemorabile per lei. Quindi, in verità, non è proprio vero che il contenuto sia re. Possiamo tornare a dire che il contenuto probabilmente al 30% è importante dal momento che le parole al 30% sono importanti, a meno che non venga consegnato con emozioni e sensazioni. e poi pensate anche ai libri, cioè i libri sono gli stessi da quanti migliaia di anni, cioè si tratta sempre dell'eroe o l'eroina, ci sono tre storie basilari, Robert Heinlein dice ragazzo incontra ragazza, ragazzo diventa eroe, o ragazzo impara qualcosa, quelle sono le tre storie basilari su cui poi ci sono migliaia e migliaia di libri. Quindi forse lì si tratta di che linguaggio, che modo di parlare, che contesto, che tipo di ambiente creo attorno alla storia, dove sono tutte le sfaccettature, cioè i libri sono diversi l'uno all'altro per questo, non perché il ragazzo invece che incontrare la ragazza succede qualcos'altro, generalmente alla base la struttura scheletrica è sempre la stessa, ma anche andando fuori da questo, comunque insomma ne avete già di concetti per capire, probabilmente è parte, non è tutto, di sicuro non è re. E di fatto questa non è una regola dello storytelling, nello storytelling una regola piuttosto è il messaggio è uno. E io uso sempre questa bambina perché così è molto seria e ve lo portate a casa questo concetto, se no lei si incazza. Questo è, cioè il messaggio è uno, ma non tanto perché è così più facile per l'altra persona capire, certamente principalmente questo è il concetto, ma anche per voi, perché se voi capite che quando dovete consegnare qualcosa, invece che essere egoisti e pensare a tutti i valori che vorreste trasmettere per quello che state dicendo, fate focus almeno alla cosa più importante, a quel punto riuscite anche a viverla meglio voi, a sentirla molto più viva come cosa da consegnare. E tra l'altro, una cosa importantissima, key message is one non vuol dire che il messaggio debba essere per forza anche un messaggio razionale, il messaggio è uno, può anche voler dire che il mio messaggio è volerti rilassare, è volerti far innamorare, è volerti fare eccitare, essere curioso, volerne sapere di più, cioè possono anche essere sensazioni il messaggio, però nel momento in cui io sento di volerti ispirare a cavolo guarda che mondo, c'è un mare da sapere ancora, vattelo a vedere, ecco io ho chiara la mia intenzione e quindi riesco a vivere in maniera molto forte. Questa è la base di un concetto molto molto interessante che è l'emotional transfert, cioè proprio perché abbiamo detto che il trasferimento principale è di sensi, di emozioni e sensazioni, a quel punto c'è una tecnica per poter trasmettere questa cosa e si basa su tre pillar, come si dice, tre colonne portanti. La prima, io devo divertirmi, ok? Sembrano cose assurde, lo storytelling è pieno di regole molto semplici, ma che nessuno utilizza perché si ritengono troppo semplici, ecco perché scienza e comunicazione fa fatica a crescere. Però sono molto semplici, prima divertiti, perché? Perché se ti diverti vuol dire che ti sta piacendo quello che stai dicendo, quindi sei coinvolto e solo se sei coinvolto puoi coinvolgere, sennò te lo puoi scordare di coinvolgere qualcuno. Nel momento in cui io vivo con emozione qualcosa, a quel punto un'altra colonna importante è il fatto di voler non mi dar l'ora di trasmetterla a te perché anche tu possa vivere con me, ok? Altrimenti mi sento solo nel farlo, anche tu vivi con me questa figata di cui stiamo parlando. E quindi la seconda cosa di cui, che cerco è voglio che anche tu viva questo tipo di emozione. E la terza, la terza colonna importante è io voglio creare interazione con te, cioè faccio questo proprio perché così insieme viviamo questa cosa e non è semplicemente un aspetto egoistico. Se fai tutto questo, queste sono le basi per creare transfert emozionale. E dopodiché, una bellissima frase che dice Neil Gaiman, Coraline, American Gods, Good Omens, ce ne sono un mare di cose sue, no? È uno scrittore molto, molto forte. Lui dice sempre la frase più importante di tutte per uno scrittore, per chi fa storytelling, è and then what happened, no? E poi che cosa succede? se tu riesci a provocare questa cosa nelle persone vuol dire che sono agganciati. Il piacere dell'esperienza provoca motivazione intrinseca, una delle frasi mie chiavi di qualunque lavoro faccio. Cioè, se io ti creo in un'esperienza piacevole, a quel punto sei tuo a volerne sapere di più, tu che vuoi esplorare, tu che mi chiedi ancora, non sono io che tento di spingerti informazioni a forza. Provo ad accelerare perché se no non ce la facciamo, ma io ci tengo sempre a non saltare neanche un pezzo di questa cosa qua. A quel punto togliamo un po' di egoismo dalla nostra comunicazione. Chi è l'eroe? L'eroe è sempre la persona che recepisce il messaggio, è il suo viaggio quello che conta e quindi io devo cambiare un po' il paradigma. La faccio corta, ma ci sono un mare di mercati che stanno cambiando in questo senso qua, retail, museale, turismo. Finalmente si è capito che tutto sta diventando un po' consumer centric, no? È l'audience che è al centro. Perché? Perché è solo così che io capisco che io sono il mentore che porta quella persona da A a B, cioè io ti dico guarda adesso ti faccio vivere un'esperienza, vorrei che la vivessi come l'ho vissuta io, ma sei tu, sei tu al centro, ok? E quindi di conseguenza ecco perché la community diventa il tuo valore, qualunque cosa fai, c'è sempre una community per te, no? Per cui in questo senso qua bisogna considerare che quel valore che tu crei per quella persona poi ti ritorna come tuo valore perché è la stessa persona o gruppo di persone che poi diventano il tuo valore. Ovviamente se parlo di essere online questo ha molto senso, in altri casi poi ci sono sfaccettature e eccezioni. Come tutte le cose lo storytelling ti insegna che ci sono mondi da creare e ci sono mondi già creati, quindi i social platform sono per esempio dei vari mondi, ognuno con le proprie regole, YouTube, faccio sempre un esempio, YouTube è un posto di intrattenimento, per cui scordatevi il fatto di arrivare a dire cose senza creare intrattenimento perché la gente va su YouTube perché si vuole divertire dalla propria moneta tempo per dire dammi in cambio qualcosa che mi faccia stare bene. Se tu ti incravati e diventi monotono o monotono, lì non stai creando un'esperienza e la persona cambia. Quindi alla base siamo lì per creare un'esperienza è il punto centrale. In qualunque caso dovremmo sempre pensare che una comunicazione o qualunque interazione che abbiamo è per creare un'esperienza quantomeno sensoriale e di sensazioni. E senza dimenticarsi che tutto nasce con lo stupore. Quindi non può reinventarsi nulla in particolare. C'è tanta noia là fuori quindi basta poco. Per cui stupire le persone fanno in modo di farle tornare bambini vogliono sapere di più motivazione intrinseca di nuovo. Ma senza troppa fatica perché il viaggio lo fai con la tua community proprio perché sono loro gli eroi. La costruzione del viaggio il percorso arriva piano piano non c'è bisogno di avere tutto già pronto altrimenti si sentono meno protagonisti di poter creare con te il mondo. E in tutto questo capite quanto quel punto sono 20 minuti ho quasi finito Michela dimenticare l'algoritmo sia essenziale. Abbiamo parlato nel titolo c'è la parola tecnologia ok siamo dentro la tecnologia anche questa tecnologia quello che stiamo facendo ora giusto? Però la tecnologia deve essere a supporto nostro non dobbiamo essere schiavi di questo quindi l'algoritmo scordatevelo ci sono quasi tanti esempi del fatto che l'algoritmo ve lo potete scordare sono piccole cose che potete affinare l'algoritmo non è il centro di tutto e io col mio canale per esempio come vi ho detto insomma ho video ogni due settimane penso che l'algoritmo l'ho proprio incasinato per bene nel capire ma perché pochi video però le persone piace ma cosa faccio qua e là? L'unica cosa è ci vuole tempo per le cose sicuramente ci vuole tempo in ogni caso però se fai le cose nel modo giusto poi tutto funziona cioè proprio perché se decidiamo di accettare il fatto che la scienza ti dà delle basi solide poi le cose si strutturano cioè hai un ritorno segui un po' le regole imparasi curioso e vedrai che avrai degli strumenti potentissimi e chiudo con questa frase che mi fa sempre impazzire i mondi sono più potenti delle parole non lo traduco perché fa schifo tradurlo però worlds are more powerful the words ok è una cosa su cui da portarsi proprio a casa in tutte le circostanze qualunque cosa di qualunque cosa vogliamo parlare vi lascio solo i miei recapiti come si dice c'ho Instagram e vabbè e poi il canale YouTube e sotto c'è anche il mio studio in cui realizziamo le esperienze immersive bene dovreste già rivedere la mia faccia anche se io non mi vedo sì perfetto eccoci qua mi segna 22 minuti però forse va benissimo perfetto abbiamo 5 minuti per 6 minuti per fare un paio di domande ne è già arrivata una intanto ti ringrazio chiaramente per questo tuo interessante intervento grazie che ci chiede intanto complimenti è stato davvero bello ascoltarti e considerare aspetti diversi la domanda specifica è vista la tua natura nel coinvolgere l'utente partendo dalle emozioni come ti comporti con tutti i membri della tua community che ti contattano in privato considerando che è un grande occasione di fidelizzazione certo bella domanda molto bella domanda arrivi ad un punto dove scollini un po' ma nel senso che pian piano che inizi a avere tanto seguito ovviamente devi fare delle scelte perché altrimenti vivresti la vita tentando di rispondere a tutti se hai una buona connessione con le persone e crea interazione io su Instagram lo faccio lo faccio abbastanza nel senso che le persone capiscono comunque qual è la mia giornata per dire a quel punto tu magari togli valore al singolo per dare comunque valore al singolo ovvero io magari non rispondo non riesco a rispondere a tutti ovviamente ma le persone man mano anche conoscendomi seguendomi capiscono che io non possa rispondere a tutti quindi non se l'aspettano di principio ma poi una mia regola è se non riesco a risponderti è probabilmente perché sto lavorando per te tra virgolette permettetelo so che sembra un po' fra culo non si dice questo francese però vabbè però in verità è così cioè io sono perso nel studio ricerca i miei episodi richiedono veramente un mare di lavoro per cui posso ovviamente stare poco nei social tanto che io pubblico nei social ma poi sono veramente l'ultimo dei viewers cioè guardo guardo gran poco tento di rispondere lo faccio la sera più persone possibili quantomeno un ho visto ok lo tento di farlo sarebbe stupendo interagire di più ma secondo me va considerato il focus dov'è il focus principale il valore per la mia audience è almeno per quello che loro chiedono sono i miei video quindi prima difendo quelli se poi ho tempo ma considerando anche la mia salute e tutto ovviamente io rispondo il più possibile quello sì più possibile però limitando appunto che cosa voglia dire il più possibile beh diciamo che io ti ho scritto su Instagram e la persona a cui hai risposto altrimenti non saresti qui fortuna che non hai detto il contrario poi abbiamo un'altra domanda da Mara non tutti sono intrattenitori ci sono dei riferimenti best practice per essere più divertenti e ingaggianti ok bella domanda anzi bella perché mi piace rispondere a questa cosa io non mi ritengo per niente un intrattenitore non ho mai dato dimostrazioni da piccolo di essere intrattenitore sì facevo con mio cugino è arrivato un pacco facevo con mio cugino una volta all'anno lo spettacolino per i genitori ma non ho mai fatto la prima volta che sono salito su un palco a 14 anni a suonare una canzone di Pink Floyd con la chitarra ho giurato a me stesso e a tutti i presenti che non sarei mai salito sul palco mai più dopo quella volta lì un anno dopo ero in boxer davanti a tutta Vicenza con la mia band punk ma in verità non era comunque un aspetto d'intrattenitore io ho sempre sofferto questa cosa poi piano piano quello che è cresciuto in me non è stata la capacità di gestire le emozioni le paure che ho in verità quello che mi ha aiutato a gestirle è stato iniziare ad avere sempre più passione per le cose che sto studiando cioè in maniera molto semplice quando imparavo qualcosa di neuroscientifico di su cosa siamo come siamo fatti eccetera eccetera prima io andavo al bar degli amici dicevo non avete idea ho scoperto questa roba qua è bellissima però non mi bastava primo perché i miei amici non tutti possono essere interessati in quel momento magari vogliono bersi una birra chi se ne frega mi smettila eccetera eccetera e allora da un altro punto di vista dico ma ci sarà qualcun altro là fuori invece che agli miei stessi interessi per cui per me era veramente una cosa molto regata al concetto di motion transfer cioè io sento di essere estremamente coinvolto a certi argomenti mi piacciono da impazzire io non vedo l'ora che vediate l'episodio mercoledì prossimo è proprio parte di me è un episodio che parla di argomenti che seguo da 3-4 anni e io non vedo l'ora sia che mi diciate la vostra che veniate anche voi scaraventati a terra da certi argomenti che non ho inventato io perché non è quello il punto e quindi in verità per essere divertente e ingaggiante credo che la cosa più potente di nuovo sia cambiare il focus fino ad oggi era fatti il corso ne ho fatti e ne ho provate di robe anche online stai impostato sentiti le radici a terra quando sali sul palco respiro qua e là non ci credo non ci credo per niente perché io credo che una persona debba spingere quello che è la parte sua più interiore che la fa sentire più vero se tu mi fai stare fermo su un palco a radicarmi a parlare con la voce bassa e lenta respirando è esattamente il contrario di come io sono fatto io ho bisogno di rimanere agitato perché sono una persona agitata perché non riesco a trattenere la voglia di dire cose per cui anche al TEDx che ti danno quel bel cerchio rosso e ti dicono stai dentro il cerchio per piacere scordatelo io col cavolo che sto dentro il cerchio non ce la faccio non è una cosa che riesco a gestire per cui io direi alla base provare a sentire cos'è che ti trasporta e che vuoi buttare là fuori e di conseguenza secondo me arriva il fatto di essere ingaggianti e il fatto di essere divertenti e così via provo a farti ancora una domanda perché siamo quasi fuori tempo massimo poi la regia mi però le tue slide sono con quelle immagini oniriche ci hanno portati in un mondo anche adesso dietro a un setting molto bello quanto conta la coerenza visiva nel creare storytelling penso ad esempio a fare stories o video o con un certo sfondo dietro avere una palette nel feed ormai sono cose superate sui social 10-20 secondi domanda di nuovo bellissima oggi siete molto fighi perché hai parlato hai detto la parola coerenza visiva ti dico solo una cosa fa finta di vestirti è la stessa identica cosa tu esci per vestirti metti un vestito metti le scarpe metti la cintura oggettistica varia eccetera però lo fai con coerenza rispetto al tipo di personaggio che sei tu potresti spaccare con uno sfondo giallo e basta perché hai un certo tipo di personalità oppure puoi aver bisogno di qualcosa di molto più articolato perché quello ti aiuta a definire le cose è importante la coerenza più che altro dopodiché tutto quello che aiuta ad espandere quello che tu vuoi dire ma senza forzature ok che anche questo è importante funziona odio chi mette la musica estremamente ispirazionale quando dice qualcosa di estremamente ispirazionale troppo stai ostentando ok quindi piuttosto se esageri metti qualcosa di tranquillo però quindi è come se metti qualcosa di troppo forte di colore non è che metti troppo colore ovunque a quel punto bilanci quindi bilanciare coerenza e questo aiuta solo per te a trasmettere come vestirsi significa trasmettere qualcosa a qualcun altro e stare bene con se stessa grazie mille abbiamo altre domande ma siamo fuori tempo purtroppo grazie mille per il tuo intervento io ovviamente sono una tua fan e questo non lo nascondo però vabbè appunto sono stata molto contenta di che tu abbia potuto condividere queste informazioni con noi è stato bello anche vedere ieri c'era chi diceva appunto conte dei skin o queen invece adesso rivedere e rivalutare le cose avere punti di vista differenti e per i community manager appunto per tutti è molto importante per creare poi e trovare anche il proprio giusto equilibrio perché chiaramente è tutto molto soggettivo sì sono d'accordo sono d'accordo va bene ragazzi ringrazio a tutti grazie tante e buona giornata buon venerdì e buon weekend ciao grazie anche a te ciao ciao